Fa gridare allo scandalo l'ennesima sentenza del giudice Monica Croci che già aveva fatto parlare di sé riconoscendo il 30% di colpo alle vittime del crollo di una palazzina in via Campo di Fossa perché Nicola Bianchi, studente di 22 anni, deceduto nel crollo della casa dove viveva in affitto in via Gabriele D'Annunzio, è colpevole per lei al 100%. Per la Croci, come anticipato da Rete 8, grazie alle rivelazioni del papà Sergio durante la trasmissione, i fatti e le opinioni, Nicola è stata in cauto, doveva uscire di casa quella notte e la sua scelta appoggerebbe sul fatto che era stato chiesto un controllo di quella casa ma è messo nero su bianco. Papa Sergio è stanco, non crede più nella giustizia e non si aspetta nulla, neanche dall'appello, ma a questo punto chiede chiarimenti allo Stato e al Ministero della Giustizia e con lui anche altri. Dolore su dolore dopo 14 anni, intanto il legale Vincenzo Angelone ha depositato il ricorso proprio il 6 aprile per alcune sentenze nelle quali la Croci aveva riconosciuto il famoso 30%. Ai parenti di 10 studenti, insomma, vengono negati pure risarcimento e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. Sicuramente la faccenda non finirà qui, ma dopo 14 anni resta la mano in bocca per delle sentenze che aggiungono dolore e senso di impotenza, dopo 14 anni per dei genitori che mai si sono rassegnati ad avere giustizia ma che ora cominciano ad essere stanchi.